Il globo terrestre. Nell'anno 1997, gli uomini del San Paolo saranno di casa in tutte le terre emerse. Anche qui, anche. Offrendo consulenza e assistenza a 500.000 imprese, dall'Italia alle Americhe fino anche a Tokyo. E dov'è Tokyo? In Giappone. E dov'è Giappone? Questo lo ignoro. Istituto Bancario San Paolo di Torino. Un primato che nasce dagli uomini.